È stato un anno assurdo. Le uniche persone che ci danno gioia nelle case sono le donne. Le donne ci danno gioia, anche nei momenti tristi e difficili. Un regalo, lo vanno a fare con gioia, un regalo di Natale. Con gioia. Facciamo un regalo di Natale. E loro ci credono nel regalo di Natale. Te lo fanno organizzato. Scelgono la carta, la coccarda, la coccarda. L'uomo non ha mai visto una coccarda. L'uomo apre, tipo tappo. Gli rimane in mano qualcosa, la butta. Non sa che cos'è la coccarda. La donna invece chiede alle amiche Ti piace questa idea di questo regalo? Che ne pensi? Cambio idea. Cioè già da sotto all'ombrellone Chiama le amiche per avere sicurezza. Tu che dici? L'uomo è un regalo. Non f***a proprio. L'uomo quando va a fare il regalo Non va a fare il regalo. Si toglie un pensiero. Ecco, sì o no? L'uomo entra nel negozio e dice Quella maglia là, che misura? Numero foto proprio. Mietta io. Metti. L'importante è che si può cambiare. Capito? Ci sono scontrini? Si. E di cortesia? Si. E mi tragi questo bugio di lezzi? Mettilo. Mettilo. Arriva il regalo alla ragazza. Non è mai felice. Lo apre e fa. Che sta fatto? Poi dice la mitica frase C'è solo di questo colore. Delle volte Delle volte l'uomo Delle volte l'uomo fa quei regali assurdi. Regala un buono. Un buono. Ma come ti salta in testa? Così ti prendi quello che vuoi tu. Vedi il buono? 30 euro. Un buono di 30 euro. Che le volte? Non sei contento? E no. Quello è buono lui. Tu si nagliava. Dice lei nella sua testa geniale. Madonna.